Tu che mai oggi contrarai il risultato, però solamente aspetti positivi per quanto riguarda il collettivo? Allora, aspetti positivi tanti se vogliamo, no? Il primo è che abbiamo cominciato la partita nel migliore dei modi, abbiamo dovuto chiamare neanche un time out nel 3-7, abbiamo dovuto chiamare solo uno nel secondo, quindi vuol dire che comunque stiamo cominciando fino a piano a recepire. A onore del vero la squadra avversaria non ha offerto la partita che ha offerto domenica scorsa in casa contro Mancerali, però è una squadra molto pericolosa, è una delle squadre più pericolose del campionato, in casa loro ci saranno da sudare parecchi di più. Mi sono piaciuti i giocatori come collettivo, ho detto giustamente all'inizio, era importante fare i tre punti, i tre punti sono arrivati sia per il morale, prima di tutto, che per la classifica. Sono arrivati con una buona prestazione, una discreta prestazione di Xavi, di Gonzales, una discreta prestazione di Maruotti, premiato come il migliore giocatore, io dico discreta perché credo di conoscere abbastanza bene può fare molto meglio, una buona prestazione di Arawarding molto concreto, molto concreto, e ancora voglio dei buoni margini di vedo, dei buoni margini di crescita per il francese, per Antonin, Rosier e per i due centrali, ma già oggi De Togne insomma ha fatto vedere chi ama loro. Grazie. Prego. Grazie mille. Grazie.